Salve a tutti, ragazzi e ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione. Si sta avvicinando Halloween e secondo me questo film, diciamo che è un sì e un no. Cioè, in questo film ci sono cose che tu riesci a salvare e certe cose che dici perché, perché avete messo tutto ciò. Ma ora ne parliamo con calma, parliamo proprio del film di oggi, ovvero Finché è morto non ci si pari, così tanto per confondere ancora di più. Io mi chiedo, in Plyon Pictures, perché cacchio hanno messo sto titolo in italiano? Che il titolo era diverso, quello, se non mi sbaglio, inglese, americano, quello che si era, un titolo diverso. Se già esiste, Finché è morto non ci si pari, con, sembra che è Samara Winding, film del 2019, dei registi, no? Che hanno fatto Scream 5 e 6, hanno fatto anche il film, l'ultimo, quello della vampira, Abigail. Perché cazzo gli avete messo sto titolo? No, me lo chiedo, eh, non per cattiveria. Perché ora si crea una confusione. Io per cercare un'immagine, no? Per usarla per il canale, mi è stato difficile trovarlo, sto film. Quindi, sarà un po' una confusione, non è quel film lì, questo film è del 2023-2024, se non mi sbaglio. Abbiamo anche, alla regia, il creatore di Final Destination, che era sparito dopo quella merdata di B-Devil, era sparito dai radar, perché dopo che hai fatto quel film, è meglio che sparisci. Non ti fai vedere un bel po', così la gente può dimenticare. Ma io non l'ho dimenticato. Ho anche i Blu-ray. Limited Edition della Midnight Factory, ho rivisto anche a cinema, ci ho buttato anche i soldi a cinema. Stronzo pure che ho comprato i Blu-ray per collezione. Un film, una merda, sull'applicazione che uccideva. Un film così pulito, scialbo. Si era perso tutta la scorrettezza che c'era nei vari Final Destination. E si era dato a un qualcosa di becero e per i giovani, no? Le applicazioni, i smartphone, ecco. Questo film qui, mi ho detto, ma forse sarà un remake, no? C'ha lo stesso titolo, perché non mi ero informato, chissà che. E invece no, non è un remake. Cioè, è assoltando lo stesso titolo, ma non c'entra un cazzo. Il film dura un'ora e cinquantadue. Un'ora e cinquantadue. La trama è semplice. Abbiamo questa sposa che è stipente di sposarsi, se la ripensa. E ci saranno questi sette uomini mandati dal marito, che sono, ovviamente, i... Ci sono questi testimoni, che prendono e devono andarla a fermare. Dicono di non uccidere, poi dicono di non uccidere. Sono un po' confusi. E i primi... Non gli scherzo, i primi trenta, paranta minuti, è loro che cercano di capire come entrare. Se la discutono. Nel frattempo vediamo lei in casa, che è vestita da sposa e va in giro. Beve, mangia una marmellata. E quelli che se la discutono fuori, poi c'è anche il siparietto divertente, no? Tra questo bestione di due metri e questa persona, un nano. Cioè, prendeci questo nano e si prendono per il culo un po' a vicenda. Divertenti. Gli unici forse caratterizzati bene sono loro due. Più il nano ha più caratteri di tutti i personaggi all'interno di sto film. Non mi scherzo. Quando c'è il nano, lui ci ha messo passione, questo attore. Gli faccio i complimenti. Il gigante, fai il gigante stupido, no? Quello alto che non capisce un cazzo. Quindi, ci sono questi siparietti. Nel frattempo ci fa vedere un po' del loro passaggio, ci fa vedere un po' del loro viaggio, prima delle nozze. Io saprei che il viaggio si doveva fare quando te sposavi una luna di miele. Perché te l'ho fatta prima, questo viaggio? Non l'ho capito. Però poi capiremo più avanti, verso la fine capiremo il perché c'è questo viaggio di mezzo. Perché tornerà spesso questi spezzoni del viaggio. Il problema del film è che è troppo anacquato, perché sembra quasi quasi del tipo Cazzo, dobbiamo fare vedere questa tizia che combatte contro questi sette? Come facciamo allungare il film? Perché potrebbe durare 40 minuti. Perché le scene d'azione, perché questa donna, uno si chiederebbe, dice ma forse la povera fanciulla è indifesa. No, lei è Lara Croft. Cioè, lei può fare Wonder Woman. No, non mi scherzo, è fisicata. Cioè, questa qua ti devi spaventare. Veramente, ti rompe il culo questa qua. Quindi non è la classica, no, tutta indifesa, oddio. No, che ne so, un metro e cinquanta che prende, la possono... Che ne so, fagli del male, la possono violentare. Questo ti violenta lei con un braccio nel culo. E quindi già uno si fa delle domande e dice ma perché ci hanno messa questa qua fisicata che con un pugno prende e ti manda a un altro pianeta? Però anche qui poi ci verrà spiegato anche su questa qua che prende rompe i culi come non ci fosse un domani. E brava. Altra cosa valida insieme al nano che fa ridere c'è lei, la nostra pronunista, che è caratterizzata quanto il parquet di casa sua. Cioè, il carattere zero, è solo brava perché lei, tutta l'attrice, fa tutti i suoi stunt, non ha controfigure. Cioè, su questo gli faccio i complimenti. Però ho due espressioni in croce, ovvero lei è contenta, lei è un po' incazzata, e poi basta. Cioè, non è brava a recitare. Fa cagare, ecco. Lo so che ora mi direi, ma è buona, ho capito. Però la recitazione, cari miei, fa acqua da tutte le parti. Non è brava. Se è brava soltanto a muoversi, no? A combattere, a fare le spaccate, a alzare la coscia all'indietro, a ammazzare la gente. Ma per il resto non so fare altro. Tutti gli altri, no? La combriccola di testimoni, sono dei idioti. Cioè, anche loro sono caratterizzati, quanto prendete delle scarpe del cinese, no? Sotto marca. Che anziché Nike c'è scritto Nackere, no? E quindi è questo. Il film, anche la regia, non è malaccia, non è male, soprattutto nelle scene d'azione. La fotografia è pure carina. I combattimenti sono carini, molto splatterosi. C'è sangue, ce n'è tanto sangue, non tantissimo, ma ce n'è. Il problema è che tutte vengono intermezzate dal tipo, ok, combattimento due minuti, poi 30 minuti di chiacchiere. Così è. Combattimento, ogni volta arriva un testimone, uno alla volta, perché sembra veramente tipo un videogioco, uno alla volta si presentano. Lei li combatte. E poi iniziamo di nuovo con le chiacchiere, raccontarci, cazzi e mazzi. Il perché lei è così, il perché devono fermare, il perché questo matrimonio non si doveva fare, eccetera, eccetera. E io ho detto, no, scusa, ma allora ha fatto bene che lei era a ritirarsi, se non si doveva fare sto matrimonio. Non ci ho capito. E poi alla fine soltanto riusciremo a comprendere di più. Ma io mi sono chiesto. Cazzo, tu hai fatto dei film che erano cardiopalma, subito! Le cose succedevano subito! Perché, cazzo, qui devo stirare il collo per spedere qualcosa? È troppo lungo, tagliatelo, 70 minuti! Cioè io avrei tagliato tutto, tutte le conversazioni utili sarebbe stato un ottimo film. Devono fare una versione cut, cioè proprio no uncut, cut. Proprio tagliata, tagliate 40 minuti e diventa un film più che godibile. Perché non è un brutto film. Diventa un brutto film perché è noioso. Dice, ma allora tu vuoi vivere, sei come quelli che vuoi sempre l'azione, che si combattono, si fanno, gne gne, non riesci tu nella caratterizzazione. No, caro mio! Il problema è che fa schifo le conversazioni loro, non me ne frega un cazzo dei loro problemi. Perché alla fine è tutto un predesso, è tutto quasi un riempitivo. Non ci mettono manco passione, manco loro che fanno sti discorsi di merda. Sono più utili i discorsi che fa il nano insieme al gigante. Perché per il resto è tutta una merda. Sembra scritto tanto per. Dice, vabbè, scriviamo. Perché dovevano si portarla avanti. Poi escono fuori cose, organizzazioni di assassini. Però ho detto, ma che cazzo è John Wick pure qua? Ci sono messi pure. Ho detto, ma perché? Quindi il film sarebbe godibile. Ma togliendo i 40 minuti sarebbe godibile. Quindi, se avete questa voglia, io vi consiglio di vederlo. Perché ci sono delle cose meritevoli e delle cose spavorevoli, soprattutto per la noia. Io, come sempre, vi invito a lasciare mi piace, a commentarmi. Fatemi sapere se l'avete visto. Io so benissimo che anche questa recensione mi sarà copiata. Per chi non sapesse, c'è uno youtuber che si passa il tempo a copiarmi le recensioni. Non ho un cazzo da fare, evidentemente. E quindi si mette a copiare quello che porto. Dici, ma io, ma le recensioni ti possono copiare? Sì, perché se lo porto io e poi dopo due giorni vieni tu, vuol dire che me l'hai copiata. Quindi, piccola parentesi, lo so, alcune persone ci possono dare fastidio o meno. Perché il canale mio ci faccio il cazzo che voglio, tipo quello che voglio e quello che penso. Quindi io vi ringrazio a tutti. Se vi va qua sotto a destra potete donare per darmi una mano. Se vi va, rivedete questa recensione per darmi una mano. Fate tutto quello che potete fare per supportare se ci tenete al canale. Ci vediamo, a un prossimo video. Ciao! Ciao!